L'autonomia è un diritto universalmente riconosciuto, intanto per noi non vedenti diventa una continua sfida. Per questo il gruppo di lavoro dell'Unione Italiana dei Ciechi, Vita Indipendente, ha organizzato la carovana dell'autonomia, che ha come finalità quella di sensibilizzare le istituzioni pubbliche e la comunità a migliorare l'autonomia urbana per i non vedenti e quindi riconoscere il diritto di cittadinanza a tutti.